Andate a cercare analfabetismo funzionale. Siamo il primo paese al mondo. Abbiamo vinto la Coppa, il primo paese al mondo, con il 45%. Questa è una cosa che fa paura. Vuol dire che nel 45% degli italiani, senza parlare per tutto il resto, non riescono a mettere i dati, basta che arriva uno stronzo qualsiasi, ti dice tre parole come le vuoi sentire e te lo mette in quel posto.